Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio in direzione Bologna sulla A1 4 km di coda per incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud sulla variante di Valico rallentamenti per un veicolo in avaria tra Aglio e Firenzuola sulla A11 code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola in direzione Firenze sulla Fipilì per lavori traffico rallentato tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa Prosegue la chiusura della statale 12 della Betone del Brennero a Borgo a Mozzano all'altezza del km 40 e 500 per Caduta Massi Ricordiamo infine l'obbligo di catene a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio